Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Dune Imperium, gioco competitivo ispirato al film di prossima uscita, appunto nell'ambientazione del romanzo di Frank Herbert, Dune, capolavoro assoluto, edizione italiana a cura di Asmod Italia, che io ringrazio immensamente di cuore per avermi offerto questa copia per la recensione. È sempre un piacere e un onore collaborare con voi. Vi vado un po' a descrivere le peculiarità di questo gioco puramente competitivo, dopo la sigla. Dune Imperium, edizione italiana come detto da Asmod Italia, è un gioco competitivo nell'ambientazione del romanzo divenuto famoso dalla penna di Frank Herbert, romanzo storico Dune, che poi ha visto una vera e propria saga ed è continuato ed è voluto portando avanti la storia di Paul Atreides, nell'imperatore Dio di Dune e altri vari cicli che hanno portato avanti la storia, fino a che il figlio di Frank Herbert non ha scritto anche i prequel, quindi tutto quello che comprendeva la vita del Duca Leto, che è il padre di Paul Atreides, del barone Vladimir Arconnen, di come abbia preso quella malattia, che come vedrete anche nel film, l'ha riempito di pustole e l'ha reso praticamente un panzone disumano, un palloncino volante, e racconta tutto quanto il prequel. Quindi è una saga completa ed è una saga che assolutamente deve piacere a tutti gli amanti della fantascienza per forza, perché è uno di quei temi che hanno dato vita un po' alla fantascienza moderna, allo sci-fi moderno. Se non ci fosse stato Dune, l'ha sempre detto George Lucas, non sarebbe mai esistito Star Wars. Infatti il pianeta Dune, o per meglio dire il pianeta Tatooine, da cui tutto inizia in episodio 4, è praticamente un richiamo molto forte, un tributo al pianeta desertico Arrakis, che è il vero nome poi di questo, del pianeta Dune, e quindi ha dato vita a tutta la fantasia, alla fantascienza moderna. È un'ambientazione particolare, è un'ambientazione piccola, finestrella, anche un pochino, no complicata, però anche bisogna andare a vedere gli anni dove è stato scritto che l'idea della fantascienza e del viaggio intestellare era sicuramente diverso da quello di oggi, anche perché la fisica è evoluta nel giro di 40-50 anni da quando è stata scritta l'opera, quindi comunque anche l'ottica e le conoscenze sono cambiate. Si parla di un'ambientazione spaziale, si parla di casate che fanno parte del Lensrad, il Lensrad è questa, è come dire questo grande impero, questa grande congrega di casate, di cui le casate principali sono la casa Atreides, di cui fa parte il protagonista, la casa Arkonen, di cui fa parte questo barone che vi ho detto tutto postoloso e tutto quanto, e la casa Corrino, che è la casata imperiale attualmente governata dall'imperatore Shaddam IV, l'imperatore dell'universo conosciuto. E tutta quanta la storia di questo gioco, dell'ambientazione di Dune, ruota appunto intorno al pianeta Arrakis, unico pianeta, unico punto di forza dove è stata scoperta la spezia, il melange, che niente po' di meno di cacchetta dei vermi, di Shaiulud, del vermoni gigante, quello famoso della saga che si trova solo appunto sul pianeta Dune, già visto tra l'altro e domaggiato in altri film come ad esempio Tremors con Kevin Bacon, e la spezia si trova soltanto su questo pianeta e la spezia consente di piegare lo spazio-tempo. E perché è così richiesta? A parte che è una merce di scambio della più facoltosa, della più ricca, comunque è una merce di scambio che vale più di qualsiasi altra cosa scoperta comunque nell'universo, ma non soltanto perché applicata ai piloti della gilda spaziale, che ne fanno a sua effazione e diventano a loro volta delle creature che non hanno più niente di umano, gli dà la possibilità di piegare lo spazio-tempo, una specie di wormhole per farvi capire, e di viaggiare da un punto all'altro dell'universo senza neanche muoversi. Infatti la cosa bella di Dune che io adoro è il discorso del jump drive. Siamo abituati a vedere il jump drive dove una nave salta da un punto A a un punto B entrando in un wormhole con una richiesta di energia che lo possa spedire da quella parte. Energia tutt'oggi introvabile, comunque servirebbe l'energia di un sole intero. In questa ambientazione qui invece non è la nave che fa il salto all'iperspazio, la nave sta a firma, magari in orbita col pianeta, è il pilota che fa tramite la spezia il salto nell'iperspazio e dentro questa nave cargo si porta dietro tutto quello che c'è. Quindi è questa la cosa bella dell'ambientazione, la spezia viene usata in tanti altri modi, ma soprattutto per i viaggi nello spazio-tempo, ma soprattutto anche per un'altra cosa perché allunga la vita e dà delle conoscenze, di cui senza farvi spoiler chi non l'ha visto o non ha letto il libro o vorrà vedere il film, Paul Atreides a livello di personaggio molto particolare della storia protagonista ne farà un uso molto 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 sofisticato. Comunque in questo gioco, dopo questa piccola premessa, voi siete chiamati ad interpretare una delle casate principali dell'Encerad, come vi ho detto la casata imperiale Corrino, la casata Arconen e la casata Atreides, e dovrete farvi la guerra per conquistare appunto la spezia e per avere il maggior prestigio delle varie casate dell'Encerad che si potranno unire anche a voi, tipo le Ben Gesserit, che sono un po' non le streghe, comunque il culto religioso di queste ambientazioni qui, ma soprattutto sarà una gara al punteggio e vincerà chi farà più punti e si sarà guadagnato il controllo totale del pianeta Arrakis, meglio conosciuto come Dune. Vi spiego un pochino come funziona, ma prima di tutto unboxing. Confezione del gioco, bella grande, vedete, rispetta la mano, anche perché c'ha diverso contenuto all'interno, veramente molto bello e ve l'ho detto, questo qui è un gioco assolutamente per me, per tutti i fan di Dune, non deve mancare nella vostra libreria. Apriamo. Regolamento fatta a striscetta larga, che io odio, perché per leggercelo serve praticamente tutta quanta una portrona, ora a parte gli scherzi, è fatto veramente bene, è spiegato da paura, ci fa vedere sempre tutti quanti gli esempi rapportati in figura e ve l'ho detto, ci sono un pochino di cose da leggere, però poi fondamentalmente la meccanica è molto veloce, quindi va bene che sia così. Un sunto delle regole e poi regole particolari per giocarlo in solitaria e in due giocatori, quindi per tutti gli amanti di giochi in solitaria lo potete prendere tranquillamente, ci sono anche le regole per giocarlo da soli. Un po' di token, vedete qui tra l'altro la figura del barone Vladimir Arconen, il gettone del primo giocatore e questi qui sono tutti quanti i simboli della fazione, delle varie fazioni con cui potete allearvi, tipo le Ben Gesserit, la casata imperiale, i Fremen e quant'altro. La mappa del gioco, il tabellone, che ora poi a breve, con tutte le zone delle azioni, ve lo faccio vedere aperto, e poi all'interno abbiamo un bel mazzone disumano di carte, anche perché il gioco ha una variante deck building. Alla fin fine voi dovete, partirete sempre con le carte della vostra casata, se avete scelta Trade, Sarconen, quello che è, e poi dovrete anche pescare nuove carte e farvi un mazzo proprio. Quindi qui ci sono tutte quante le carte agente azzardo che dovete usare nel corso della partita e poi abbiamo un po' di segnalini che vanno a rappresentare le truppe sul campo, questo ad esempio è il melange, è la spezia, arancione, l'acqua, perché è la seconda risorsa principale in un pianeta desertico, questi qua giù sono gli agenti che potete inviare nei posti, ovviamente non sono le truppe, gli eserciti sono altri cubettini che sono qua, e poi le schede dei personaggi con le loro varie abilità che sono ad esempio il duca Leto, che è il padre di Paul Atreides, e abbiamo il barone Vladimir Arconen, Glossu Rabban, che è il nipote, nominato la bestia del barone, un truce sanguinario, e tutti gli altri personaggi. Vi do un'idea un po' su come funziona, le regole del gioco sono molto semplici, in questo Dune Imperium abbiamo una mano di carte iniziale, che si pescano sempre queste cinque carte, e queste carte che abbiamo ci consentono soprattutto di fare battaglie, quindi possanza a livello di combattimento, e muovere i nostri agenti, perché nella mappa del pianeta Dune che abbiamo con tutte le zone, noi dovremo inviare i nostri agenti, e per inviarli dovrete sempre usare una carta agente che abbia il simbolo, lo stesso simbolo della zona dove volete mandare il vostro agente, perché se mandate un agente imperiale in una zona dove possono entrare solo i Fremen, i nativi di Arrakis, l'agente imperiale lì non ci può andare, ci dovrete mandare un'altra gente che a sua volta abbia lo stesso simbolino, quindi è molto facile come a livello di D.R. regolamente e tutto quanto, e voi quando andate in una zona, giocate alla carta, ci piazzate la gente, e prendete tutte quante le risorse, i punti, tutto quello che ci deve essere preso da quella zona lì, ma a volte la zona potrebbe avere anche un requisito, quindi la spesa di qualcosa per prendere quello che c'è. Si può prendere la spezia, che è la cosa più importante, oppure si può mandare nelle fazioni, io posso mandare il mio agente nel palazzo delle Ben Gesserit o nel palazzo della casata Corrino dell'Imperatore per avere il favore imperiale, che ovviamente con le varie fazioni vi danno delle cose particolari, e a quel punto io, arrivata al top con quella fazione, l'avrò alleata e mi darà dei punti e dei vantaggi. Lo scopo del gioco è quello di fare una gara al punteggio e di controllare la spezia e Dune, perché come riporta il motto di Dune, chi controlla la spezia controlla l'universo, il melange, questa forma di energia inesauribile, fino a che ci sono i vermoni che la fanno la cacchetta, e è la cosa più ambita assolutamente dalle casate. Quando si vanno a giocare le carte, le carte possono essere giocate in due maniere, hanno di solito, ma non sempre, le carte che usate per muovere gli agenti, hanno di solito una parte alta e una parte bassa, divisa da una riga. Nella parte alta è l'azione che potete fare con quell'agente, prendendo i monos della carta e della zona dove lo mandate, la parte sotto, invece, è una cosa che serve prettamente per il combattimento, quindi per la fase finale, perché nel turno voi giocate una carta a testa, una io e muovo il mio agente, una il mio avversario e muove l'agente, una e poi si ritorna a me, e si rifà tutto quanto il giro. Quando non avete più carte agente in mano, finisce il turno, non potete più fare altro, oppure potete giocare direttamente una rivelazione, leggendo la seconda parte, al momento che giocate la carta rivelazione il vostro turno finisce, quindi tutte le altre carte in mano non le potete usare e andate a vedere, a leggere quello che fa. Di solito quando fate una rivelazione vi dà una possanza per le spade che sono segnate al combattimento, perché poi alcune zone sulla mappa hanno due spade incrociate che vuol dire che per andare a prendere quella zona lì è una zona di combattimento, quindi se altri vostri avversari ci posizionano truppe esercito prese dal loro bacino ovviamente e le mettono le schierate sul campo ci sarà una battaglia banale dirvi vince chi ha più truppe sul campo e magari gioca più carte azzardo o più carte rivelazione che le diano più possanze nel combattimento. Se uno ha a livello di combattimento 10 e quell'altro ha 15, quello che ha 15 vince la battaglia e vincendo la battaglia prende le risorse o comunque i premi che erano in palio in quella zona. È tutto un gioco così di battaglie e di posizionamento degli agenti per cercare di prendere più risorse possibili che vi consentono di vincere col conteggio di punti finale. Il gioco, come vedrete poi i disegni sulle carte, i personaggi e tutto, è ispirato proprio pari 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 al nuovo film che sta per uscire. Quindi vediamo anche i personaggi come Jason Momoa che fa Duncan Hyda o ad esempio della casata Traides e tutti gli altri attori famosi che ci sono. Forse non è un gioco per tutti ma questo non è male, assolutamente. Sicuramente questo non è il gioco che agli amici che non sono tanta avvezia giochi logistici o comunque di battaglio che magari non conoscono l'ambientazione è difficile portarlo avanti a un tavolo, non è un Dixit che lo porti una sera si fa una partita anche perché a spiegare le meccaniche ci vuole un pochino. Non è difficile però come dico sempre è complesso, ha diverse cose da tenere in mente. Questo è più un gioco per i fan non soltanto, vabbè per i fan di Dune lo devono avere per forza però anche agli amanti della fantascienza perché è qualcosa di veramente spettacolare. Poi è il padre della fantascienza, uno dei padri fondatori della fantascienza moderna quindi se ti piace anche Star Wars The Expanse ma anche Battlestar Galactica e non ti piace Dune cambia veramente genere datti all'horror perché c'è qualcosa che non va. Io ringrazio di cuore Asmod Italia per il mio offerto a questa copia per la recensione e se lo volete ordinare dal primo link in descrizione e in sovraimpressione dalla Gioco Libreria Semola nostro negozio sponsor al miglior prezzo sul mercato. Se lo trovate in lista ma è finito oppure proprio non c'è in lista scrivete al supporto della Gioco Libreria Semola mandatogli una mail facendo presente che arrivate dal canale di Coridan e chiedete se è possibile ordinarlo che sia in lista o che proprio non ci sia. Il proprietario farà il possibile per ordinarvi una copia al miglior prezzo sul mercato e usate sempre come vedete a nota il codice discount Coridan 7 per avere uno sconto del 7%. Spedizioni gratuite superata la spesa di 79 euro in tutta Italia in 24 ore e anche fuori dall'Italia quindi spedizioni in tutto il suolo nazionale e anche in Europa è un bel servizio andate veramente a vedere fatemi sapere cosa ne pensate e per me per tutti gli amanti della fantascienza e di Dune in particolare avere per forza bellissimo poi un gioco che detto fra me e voi si pimpa veramente bene mettendoci Shailu del vermone gigante o magari togliendo gli agenti e mettendoci dei soldatini cose del genere si pimpa da paura ciao ragazzi alla prossima